Il comandante della Capitaneria di Porto, Domenico Latella, ha firmato l'ordinanza con cui si autorizzano gli ormeggi al foro italico. Tutto sarebbe quindi ok per quanto riguarda i fondali e la fruibilità della rada, un modo anche per rispondere alle critiche avanzate dagli operatori marittimi. Si aspettava da tempo un'ordinanza che sblocca, di fatto due approdi importanti. Sì, proprio ieri, il 31 maggio, ho firmato l'ordinanza con cui restituiamo il foro italico nella banchina Santa Lucia, di cui do qualche dato, 355 metri di lunghezza, un pescaggio massimo di 5 metri, che comunque ci consente di ospitare la gran parte degli yacht che scalano il porto di Siracusa. Ho fatto prima l'esempio dello yacht Ace, che riesce tranquillamente ad andare in quel tratto di banchina. Credo sia una conquista per la città, il foro italico è stato restituito e ai Siracusani, visto che è uno dei tanti salotti che ha Ortigia, e anche a queste navi che portano comunque beneficio alla città e per quanto mi riguarda sono anche uno spettacolo per gli occhi. Beh, intanto diciamo che anche i lavori della banchina 4, che è qui adiacente alla Capitaneria, penso si ultimeranno entro breve tempo. Stiamo parlando di una banchina di 170 metri, con pescaggi fino a 7-8 metri, e in qualche tratto qualche di più, quindi mi mantengo, do una stima prudenziale. Quindi è una banchina di tutto rispetto. Credo, mi auguro che nel prossimo anno, ma queste sono notizie che ho preso dalla lettura dei giornali, anche il molo Sant'Antonio e la banchina numero 3 possano essere ultimate, e il molo Sant'Antonio sono 315 metri lineari di banchina, con pescaggio 8 metri, 9 metri, 10 metri. Quindi il discorso cambia totalmente. Se così sarà, il porto di Siracusa al prossimo anno non ha da invidiare niente a nessuno.